La malattia non spegne i sorrisi dei bambini. Da qualche mese a Padova un aiuto parte dalla cura che dall'ospedale arriva direttamente nella casa di alcuni piccoli pazienti affetti dalla leucemia. Ci è creduto fortemente l'AIL che è riuscita a portare a termine una convenzione con l'azienda ospedaliera di Padova, EUS 6 e Euganea. Medico di riferimento e infermieri si recano a domicilio dei pazienti per perlievi del sangue, visite periodiche, medicazioni, terapie e controllo del catetere venoso. Un lavoro in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta e gli infermieri dei distretti. Un sollievo per bambini e famiglie. Abbiamo ormai una quindicina di pazienti che rientrano già in questo progetto. Penso che tra poco si raggiungeremo una ventina, però il progetto cresce e quindi le esigenze aumenteranno e quindi man mano si farà fronte. Il progetto è diventato operativo il 29 giugno. La prima paziente è una bambina delle scuole elementari che vive nel Padovano. Davide Massano, il medico che si occupa di questo servizio, non l'aveva mai visto in ospedale con il ciuccio. Lei a casa se lo poteva invece permettere. Abbiamo quindi visto la bambina nel suo contesto, tranquilla e beata. Mentre io parlavo con la mamma per sapere come stava, che cosa mangiava, che sintomi aveva, lei giocava con sua sorella sul divano e quando lo visitate è stato come un gioco, sul suo divano con la televisione accesa e lei ovviamente è stata tutta sorridente e felice. Di leucemia si può guarire, i bambini e le famiglie vanno sostenuti nel percorso. Il progetto è partito e adesso non si torna indietro.